Rivedere il funzionamento dell'Unione dei Comuni, ripensare le politiche riguardanti la gestione dell'emergenza idrica e del trattamento dei rifiuti. Una città in comune, lista civica di Enzo Belloni, che sostiene la candidatura a sindaco di Pesaro di Andrea Biancani, ha tenuto oggi una conferenza stampa per mettere sul piatto tre linee d'azione elettorali. Prima l'Unione dei Comuni, in cui secondo Belloni Pesaro genera un 70% di risorse per poi ritrovarsi in un 30% per i servizi ai propri cittadini. Una situazione per Belloni reputata sbilanciata, soprattutto per la Polizia Locale. L'obiettivo è quello di rivedere in maniera importante il progetto, il tema dell'Unione dei Comuni, magari lavorare e spingere di più sulle convenzioni, avere un ruolo diverso rispetto alla gestione della Polizia Locale. Ci piacerebbe pensare che la Polizia Locale ritorni in completa disponibilità nell'amministrazione comunale e questo ci permetterebbe anche di avere le risorse per aumentare il numero di agenti al servizio della città. La sicurezza non si fa solamente con le telecamere, ma si fa anche con gli agenti di Polizia Locale che quotidianamente si spendono per il bene dei cittadini. Belloni mette l'accento sul tema delle emergenze idriche che continuano a ripetersi e pone la riflessione sulla realizzazione degli invasi da ragionare e progettare in tempi celeri. Discorso analogo su un tema rifiuti che necessita una presa di posizione a fronte di discariche in esaurimento. Poi una riflessione anche sul neonato Auditorium Scavolini che deve accelerare sull'aspetto sportivo della sua polifunzionalità. Noi chiediamo che un impianto sportivo storico dove ci sono stati scudetti nella pallacanessa, scudetti nella pallavolo e anche risultati importanti nel pugilato perché noi abbiamo una bella officina di campioni che nel pugilato ritorni ad essere anche un contenitore sportivo, non solo culturale. Questo lo possiamo fare decidendo di utilizzarlo per un paio di weekend al mese. Si dà alla federazione sportiva, si dà l'indisponibilità che per il secondo e il quarto weekend di ogni mesi, mentre il primo e il terzo può essere utilizzato e dovrà essere utilizzato per riportare in centro alcune discipline sportive. Evitare di spostare i canestri tre volte al giorno al padiglione D e magari lasciare al padiglione D la pallavolo e il calcio a 5 e riportare alle origini, quindi al vecchio palazzo dello sport, la pallacanestro. Visto che in questo momento abbiamo tre squadre, tre società che sono in serie B e quindi la capienza dell'auditorium è una capienza tale che permette di ospitare quei campionati può essere un segnale importante per tutta la pesaro sportiva.